Un disastro per le tre squadre di A. La Seco parte a Portoviro con il piede giusto, sostenuta anche dalla presenza di piazza, poi però, sia per la vena di Bellè e non solo sul fronte locale, sia per un calo di adeguate concentrazione e continuità, si smarrisce per D3-1, ritrovandosi in coda con un preoccupante punticino alla vigilia di un'altra gara tostissima, pur se in casa, contro il Siena di Montagnani. In A3 l'Abbapineto crolla in casa, un A3 netto, contro un sorprendente Sandonà che ha giocato la partita perfetta come la tempesta, approfittando anche della giornata storta del sestetto di Rovinelli che mai ha dato la sensazione di potercela fare. Non più solitaria vetta, ma questo K.O. deve trasmettere la consapevolezza reale delle proprie forze, accanto ai limiti da emendare senza perdere tempo. In A2 femminile, infine, ancora un K.O. dell'Altino, stavolta gravissimo perché nella propria Tana è al cospetto di una diretta avversaria per la salvezza, la Sicula Aragona, una A3 micidiale, zero punti in classifica. A ciò si aggiunga che, invece di festeggiare il rientro della Menicoli, si è infortunata la capitana Costantini, a conferma del momento no su tutti i fronti, si va a Olbia per cambiare, rotta definitivamente. In B maschile, altro K.O., stavolta interno senza punti, di una generosa Alba che cede una A3 al Falconara. Cade pure il Paglieta sul campo della capolista solitaria Pozzuoli, ma diversi sono i segnali positivi su tutti i vedi del secondo set perso a 27. In B1 femminile, primo e tondo successo della Tetina, che nello scontro diretto con l'Isernia vince 3-0 nell'immagini e convince, nonostante la defezione in extremis della trascinatrice Corradetti. Tre punti di platino e molto entusiasmo della giovanissima formazione del bravo Cristian Piazzese. Il tutto alla vigilia di un altro match salvezza sul campo del San Benedetto. In B2 al riposo, il teramo che resta vicecapolista, colpo sia pure dopo tanta fatica, in rimonta dall'1-2 al 3-2, di un Gada Pescara 3 che ha giocato più che bene, ma in maniera discontinua a pagliare. Due punti preziosissimi, mentre cedono le altre abruzzesi. La Danunziana perde 1-3 con un secondo set ceduto addirittura a 31 contro il Coriaceo e il Quotato Trani. In attesa del Gran Derby, tutto pescarese sabato prossimo alle 17 al Palor Fento contro il Gada. La CETAS Montesilvano crolla a Fasano in una gara senza storia. Domani alle 21, quinta puntata di Pallavolè.